Un protocollo d'intesa firmato tra Cassa Depositi e Prestiti e Torità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale per rafforzare la cooperazione tra le parti e per favorire e accelerare la realizzazione di infrastrutture di sviluppo delle aree portuali. Tra gli investimenti ci sono la riqualificazione del Molo San Cataldo del Porto di Bari e i lavori nell'area di Capobianco del Porto di Brindisi. Un tema sicuramente di grande attualità dopo le polemiche degli ultimi giorni legate all'esclusione di finanziamenti per il Porto Brindisino. Nello specifico l'intervento per Brindisi riguarderà lo sviluppo dell'area della colmata di Capobianco ex British Gas al fine di renderla attrattiva per l'insediamento di un operatore terminalista di primaria importanza internazionale. Cassa Depositi e Prestiti in linea con il Piano Industriale 2019-2021 attiancherà l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale in tutte le fasi che porteranno alla realizzazione di queste opere strategiche per i porti e le città in cui si trovano dalla programmazione all'esecuzione, passando anche per la progettazione e l'affidamento dei lavori. Inoltre, Cassa Depositi e Prestiti valuterà eventuali richieste di finanziamento da parte dell'Autorità di Sistema Portuale individuando le migliori condizioni tempo per tempo praticabili e fornendo il supporto necessario a favorire il perfezionamento delle relative operazioni di finanziamento. Il supporto offerto prevede anche l'attività di consulenza tecnico-amministrativa per la progettazione, l'esecuzione e lo sviluppo del partenariato pubblico-privato relativamente alle infrastrutture di diverse aree strategiche, come detto, nei porti di Bari e di Brindisi. Grazie a tutti.